Salve a tutti ragazzi, io sono Savio e benvenuti in Ark Survival Evolved Ragazzi, visto che siamo alle porte di San Valentino, oggi in questo episodio avevo intenzione di costruire una casa di San Valentino La casa che servirà per l'accoppiamento dei vari dinosauri Io ho intenzione di costruire la casa in questione giù in fondo Ho già preparato la base per la casa, ora ve la farò vedere Ho craftato tutti i materiali che in teoria mi serviranno per la casa Nell'inventario al momento ho solo 8 mura e 4 finestre Ho caricato il nostro Argentavis con i materiali che ci serviranno per la costruzione della casa Eccoli qui tutti i materiali Portone, impietra, ingresso, generatore Insomma, tutto quello che ci può servire per la casa Sicuramente mi sarò dimenticato qualche cosa Ma poi man mano che andremo a costruire la casa Ci renderemo conto meglio di quello che serve Allora, vi faccio vedere innanzitutto dove ho intenzione di costruire la casa Ovviamente il nostro Argentavis è molto carico e quindi è lentissimo Ma purtroppo non possiamo fare altrimenti Potevamo in effetti pigliare il nostro Ercole per portarci lì sul posto Però alla fine pazienza Ci accontentiamo del nostro Argentavis Ragazzi, questo è il posto dove ho deciso di costruire la casa di San Valentino Già come potete vedere ho creato la base che ci servirà appunto per costruire questa casa Quindi atterriamo col nostro Argentavis Niente, io ho costruito questa casa Voglio costruire questa casa appunto come vi dicevo Per far accoppiare i vari animali Ho creato pure, grazie alla mod, l'incubatore di uova Che ci servirà appunto per costruire le uova Molto più facilmente rispetto al metodo classico Diciamo con i condizionatori E fuochi da campo e quant'altro E niente, facciamo una cosa Li mettiamo con ogni caso, li installiamo dopo tutte queste cose Al momento ci basiamo solo sulla costruzione della casa Poi successivamente vediamo l'incubazione delle uova e quant'altro Quindi nel nostro inventario abbiamo un po' di materiali Che al momento non ci servono Perché avevo intenzione di partire con l'ingresso e il portone Quindi questi li posiamo al momento perché non ci servono Cioè ci serviranno ma dopo, successivamente Quindi innanzitutto facciamo una cosa Mettiamo l'ingresso e direi di metterlo Di metterlo, di metterlo Magari lo mettiamo Se ce lo fa mettere Lo mettiamo un po' più al centro Aspettate un attimo, vediamo così Lo mettiamo un po' più al centro Purtroppo esce leggermente fuori Ma va bene così Subito dopo andiamo a mettere il portone Bene Ed ecco qua la prima parte Ora l'unica cosa che dobbiamo fare è chiudere un pochettino tutto Allora io ho costruito i muri alti 4 Quindi 4 d'altezza Ne ho fatti un bel po' ma non ci servono sicuramente tutti Quindi ne pigliamo la metà al momento E poi per rendermi conto meglio Metterei pure le finestre E basta perché siamo troppo pesanti in effetti Non ci possiamo muovere Quindi pigliamo la metà di queste mura da 4 E cominciamo a chiudere innanzitutto questa parte qua con i muri Quindi le equipaggiamo Chiudiamo intanto questa parte Da questa parte invece facciamo una cosa Mettiamo Niente Facciamo così Mettiamo un muro così E uno da questa parte E nella parte bassa invece mettiamo una finestre Poi con le altre mura Con le altre 4 mura Intanto cominciamo a chiudere questo lato In questo modo Pigliamo le altre mura dell'argentavis Una volta preso le mura da 4 Cominciamo a metterle in questo modo E da questa parte metterei una finestra Cominciamo nuovamente con i muri da 4 Questo l'ho sbagliato ovviamente Ma lo possiamo raccogliere perché fortunatamente fanno parte della mod S plus Quindi chiudiamo In questo modo Così Da questa parte visto che c'è il mare diciamo Avevo intenzione di metterne altre due di finestre Una da questo lato E una da questo lato In questo modo E chiudiamo con il resto Questo l'ho sbagliato Quindi ripigliamolo E chiudiamo quindi dicevo Con i muri da 4 Chiudiamo un po' tutto Così 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 E ce ne servono altri 3 Se non sbaglio Intanto abbiamo fatto il livello con il nostro Argentavis E gli aumenterei Ma sì Il peso Quindi pigliamo Altre 3 muri Da 4 Pigliamo poi Questo 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 E questi Allora Ho preso Innanzitutto In effetti Mi sono accorto di aver fatto un errore Ma ora lo andiamo a sistemare Continuiamo innanzitutto a chiudere Quindi Pigliamo i muri da 4 E chiudiamo Da questa parte finestre non ne faccio Perché come potete vedere C'è un po' di montagnetta Quindi non c'è una gran visuale Quindi chiudiamo in questo modo Sopra Mettiamo i muri classici Sopra le finestre Quindi uno in questo modo Uno in questo modo E uno in questo modo Stessa cosa nelle altre Così Così E così Come potete vedere L'ingresso E' solo questo del portone grande Diciamo no? Ma io volevo fare anche un ingresso Per me diciamo Per poter passare io tranquillamente Senza aprire il cancello grande Quindi che avevo intenzione di fare? Magari Togliere un muro Laterale Magari Scusa Argentavis Magari Togliere questo qui Da questa parte Lo raccogliamo E fare l'ingresso Il nostro ingresso Diciamo Da questa parte Quindi Equipaggiamo l'ingresso Così E poi La porta in questo modo Con la doppia apertura Con la doppia apertura Diciamo Continuiamo mettendo I muri singoli Uno Due E tre Benissimo E a questo punto Direi che abbiamo Chiuso la nostra casa Ora l'unica cosa Che dobbiamo fare L'unica No Ce ne saranno ancora altre cose da fare Ad esempio Mi sono scordato di creare le finestre qui Da mettere qui dentro Ma poco importa Alla fine le lascerei In questo modo Non penso ci siano grossi problemi Quindi direi di fare Il tetto Ne ho fatti 20 Ma sicuramente non basteranno Però Volevo mettere Intanto le rampe Giustamente Per poter fare E entrare I dinosauri Le rampe Io già le ho Prese Craftate Quindi le andiamo a mettere In questo modo Una qui E una qui Quindi le due rampe Normali Da questa parte Visto che il nostro È un ingresso singolo Diciamo Dove entriamo noi Mettiamo Questa in questo modo Se ce la fa mettere Perché Ok In questo modo Si E poi Cambiare Con le scale Normali Quindi Noi Entreremo Da questa parte Mentre Dinosauri Da questa parte E L'ingresso È automatico Diciamo C'è l'apertura Automatico Ma siccome Non ci serve Direi di Chiuderla E aprirla manualmente Quindi switch To manual Perfetto Quindi la chiudiamo E la apriamo manualmente La porta Mentre questa qui Nostra Si aprirà E si chiuderà In automatico Perfetto Quindi al momento Ci siamo L'unica cosa Che sicuramente Quindi non basterà Saranno I detti Io Se non sbaglio Ne ho craftati 20 Circa Vediamo Un po' Non penso Che basteranno I 20 Che abbiamo Craftato Ma Intanto Li andiamo a mettere Così Ci rendiamo conto Un po' meglio No Allora Questa sarà Forse una parte Difficile Perché Da terra Non lo so Se riusciamo A poterli Piazzare Facciamo una prova Proviamo a metterli Da terra Vediamo che cosa Succede Se Se ce li fa Mettere E mi sa Di no Non ci arriviamo Su Oh si Forse si Bisogna essere Molto veloci A piazzarli Quindi Mettiamo Tutti i vari Tetti E chiudiamo Questa casa Ragazzi Come potete Vedere Purtroppo Non Non sono Abbastati I vari Tetti Quindi Ne dobbiamo Fare Ancora Un bel Po Penso Un'altra Ventina Circa Magari Ora Mi faccio Il conto E le andiamo A craftare Così Le andiamo A mettere E chiudere Il tetto Di casa Ragazzi Eccoci Di ritorno Qui Sulla Casa Di san Valentino E Ho Craftato Gli altri Diciamo Tetti Da Mettere I restanti Tetti Quindi Ne ho Fatti 30 Sicuramente Basteranno Almeno Spero Quindi Mettiamo Così Così E Continuiamo Finché La casa Non sarà Totalmente Chiusa Ragazzi Manco ormai poco Gli ultimi Due pezzi Ed ecco Ci sono Avanzati Un po' Di Tetti Ma va bene Li utilizzeremo Sicuramente In un secondo Tempo Vi faccio Vedere La casa Finita Bene Niente È una Semplice Casa Per Diciamo Che Utilizzeremo Più che Altro Per L'accoppiamento Appunto Dei vari Animali È abbastanza Grande Possiamo Entrare E uscire Anche con i Volatili Se vogliamo Ho deciso Di lasciare Le finestre Così In modo tale Che entrerà Un po' Di luce All'interno E Un'altra cosa Però che Volevo fare Prima di Completare Sono No Le ultime due cose Che volevo fare Allora Innanzitutto Tu hai lasciato Bene Come vedo Hai lasciato Un ricordino All'interno Della casa Vuol dire Che ti piace No Quindi Avevo Intenzione Di fare due cose La prima cosa Carina Era Mettere Un cartello Magari All'esterno Giustamente Della casa In questo Modo Perfetto E scrivere Che cosa Ma lo so Voi che suggerite Mettiamo Casa San Valentino Valentino Casa San Valentino Così ci ricordiamo Pure che L'abbiamo Costruita Nel periodo Di San Valentino Ok Poi Un'altra cosa Che avevo Intenzione Di fare E mettere L'incubatrice Per le uova Allora Per mettere L'incubatrice Delle uova Occorre Appunto L'incubatrice Che sarebbe Questa qui Che ho lasciato Nella Gentavis Per farla Per farla Per farla funzionare Ovviamente Ci serve Il generatore Ci serve Energia Elettrica Quindi Pigliamo pure La benzina I cavi E la scatola Ok Ok Dove possiamo Posizionare Questa incubatrice Allora O la mettiamo All'ingresso Ma non mi piace Tantissimo All'ingresso O la mettiamo Allora Considerando il fatto Che io Il generatore Vorrei metterlo All'esterno Quindi Facciamo una cosa Lo mettiamo All'angolo Mettiamo L'incubatrice In questo lato E il generatore All'esterno E Facciamo così Vediamo Allora L'incubatrice La mettiamo Qua Ovviamente Dice che è spento Perché Giustamente Non arriva Energia elettrica Il generatore Lo mettiamo All'esterno Quindi Visto che è messo All'angolo Pigliamo Il generatore Non so se Occorre Ma mi sa di si Mi sa che occorre Una fondamenta O no No Forse non occorre Lo mettiamo Qui Allora Questo generatore Non è Splus Perché l'ho trovato All'interno Di uno dei portali Quindi Vabbè Ci accontentiamo Gli mettiamo All'interno La benzina E poi Una cosa Che dobbiamo fare Ovviamente È collegare Il Generatore Con Diciamo Con L'incubatrice Facciamo una cosa Accendiamolo Ovviamente Qua dice Che è spento Però Se noi Andiamo a mettere Il filo Però da questo lato Non si vede Scusate un attimo Facciamo una cosa Allora Intanto mettiamo La gamma Così vedete pure Un po' voi Allora Mettiamo Perfetto Forse così Dovrebbe andare Mettiamo il filo In questo modo Andiamo All'interno E Se ci fa Mettere Magari Questo Purtroppo Non si vede Non so Se è così Lo Lo Piazza Oppure no Ma penso Di sì Se siamo fortunati Io l'ho messo E forse funziona Perché vedo Le scintille Non so Se Se tolgo Questa fondamenta Se riesco A vedere qualcosa Facciamo una cosa Infatti Allora Di funzionare Funziona Perché mi dice Che appunto Che è alimentato Si vede Il Lo scintillio Diciamo Della corrente E E va bene così Alla fine Non mi importa Anche se si vede Voglio dire Non è un problema E Niente Qui all'interno Possiamo noi Spegnerlo O accenderlo Ovviamente Ma questo Ovviamente Lo accenderemo Solo quando Metteremo le uova Le uova Ovviamente Devono essere Quelle fecondate Non Non bastano Le uova semplici Che raccogliamo Dai peri dinosauri Che ci sono in giro Quindi Per Fare Schiudere le uova Occorrono Le uova fecondate Al momento Quindi Visto che non serve Più di tanto Diciamo Di andare a spegnere Il generatore Perché Consuma energia E quindi Di conseguenza La benzina Quindi Lo andiamo a spegnere Perché non ci serve Il generatore Lo possiamo lasciare Pure così Oppure Visto che Mi è rimasto Qualche Tetto Se ce lo fa Metterlo Possiamo Coprire In qualche Modo Magari Così Sì Lo proteggiamo Un po' Lo proteggiamo Va bene E Sì Potrebbe pure Andare così Magari Visto che Ce l'abbiamo Possiamo mettere Un muro Dall'altra parte Ma Va bene Dai Così mi sta bene Ragazzi Se poi Magari Avete qualche Suggerimento Mettetelo Nei commenti E vediamo Di modificare Un po' Al momento Io direi Di lasciarlo Così Quindi Niente Ragazzi Direi che La stanza O la casa Di san valentino È pronta E abbiamo Questo Un bel po' Di spazio Quindi Dove Andiamo a mettere Poi Gli animali Che noi Vorremmo fare Accoppiare E Quando Andremo A prendere Le uova Di viverna Ad esempio Le andremo A schiudere Direttamente Qui Sull'incubatrice Che sarà Molto più veloce Per schiudere Le uova E non occorreranno Tipo condizionatori E quant'altro Per la schiusa Delle uova Basterà Questo Incubatore Incubatrice Va bene Ragazzi Per il momento È tutto Io Vi saluto E mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Mi piace Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.